Sul telecomando, premere il tasto Menu. Selezionare Funzioni Smart, con l'uso delle frecce di direzione, quindi premere OK. Muovere il cursore su Account Samsung e premere OK. In questo sottomenu sono selezionabili solo due opzioni, Accedi e Crea account. Selezionare Crea account e premere OK. Creiamo ora un account Samsung premendo il tasto OK. Si viene ora invitati a leggere i termini e le condizioni relative all'account Samsung e l'informativa sulla privacy selezionando Visualizza dettagli. Una volta completata la lettura, accettare i termini e le condizioni selezionando il riquadro A Consento. Una volta fatto, spostarsi nella schermata successiva selezionando il tasto Freccia a destra sul video del TV. Inserite ora il vostro indirizzo e-mail e premere Fatto. Inserite ora la vostra password e premere Fatto. Al termine, selezionare Freccia a destra sul video del TV. Perfetto! Il tuo account Samsung è pronto!